buongiornissimo raga ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video vi chiedo chi eliminate nel gruppo c continua ovviamente lo sportivo dell'anno ragazzi e chi eliminate chi eliminate ragazzi nel gruppo c chi eliminate fra rafael nadal ovviamente campione nel tennis tra arianna fontana oro comunque lo short track in queste olimpiadi invernali oppure andate ad eliminare mark marquez mark marquez ovviamente campione da moto gp oppure simona quadarella tre medaglie d'oro agli europei di nuoto fatemelo sapere nel sondaggio legato al video ovviamente ragazzi voterò anch'io iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto lasciato un sacco di mi piace al video condividete questo video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate un commento qua sotto per sapere cosa ne pensate mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e noi vi decida insieme al prossimo video insieme al prossimo video insieme al prossimo video insieme al prossimo video Grazie.